Dice Pronto? Pronto, ma chi è? Parli? Quando rispondo io non parla nessuno Sarà uno sbaglio, un contatto È un segnale Mi sa che mio marito si è fatto l'amante Può darsi Come si dice, l'uomo è cacciatore, non se la prenda Quando mi mette una mano addosso è solo per menarmi Che ci vuol fare? Noi donne siamo nate per soffrire Sono sei mesi che non mi tocca Che non abbiamo rapporti nel senso del sesso Chissà che ha meglio di me quella là Guarda 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 il mio seno Guarda come sta ancora su È quello di una ragazzina Senti, senti Senti com'è duro Che ne dici? È duro Com'è? È duro Oh, ma come sei nervosa Che c'hai? Il pesce È rovente, mi fuma Mi fuma il pesce Si brucia Vado in cucina Allora Oh, ma come sei? Allora